Che bella cosa, una giornata ai sole, un'aria serena dopo una tempesta Ma nato sole, più bello è me, oh sole mio, sta in fronte a te Oh sole, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te A maggio, Chioggia TV sceglie una bionda spumeggiante per il suo calendario, Nicole Nordio Nicole Nordio nel servizio fotografico interpreta la moda dei negozi Gruppo Liliana per la primavera-estate 2012 Indossa in particolare alcuni pezzi della nuova collezione Relish, un marchio giovane e grintoso ma estremamente femminile Non può mancare nel look estate 2012 il Topo Fluo, che è il vero must della stagione Lo troviamo anche nella t-shirt indossata da Nicole e nella borsa che completa perfettamente il suo look Se volete vestire come Miss Maggio, scegliete i negozi del Gruppo Liliana, la moda a Chioggia e Sottomarina Pensata per l'estate, ideale per un bel aperitivo in riva al mare, l'acconciatura di Nicole è curata dai professionisti di Tiziano Air Per Nicole un raccolto lavorato con un frisè taglia piccola, per uno stile giovane e grintoso come la nostra Miss Attenzione! Questo mese una bella novità da Tiziano Air, con il lancio della Lissé Air Il trattamento alla cheratina idrolizzata per liciare i vostri capelli con un risultato che dura sino a tre mesi Utilizzando elementi naturali e non chimici, questo prodotto è un vero trattamento di bellezza per la vostra chioma Un'esclusiva dei saloni che aderiscono all'International Team Academy Hairdresser Una sinergia nata da poco tra numerosi centri all'avanguardia per le acconciature in tutta Italia E che si sta diffondendo anche all'estero con crescente successo Scoprite tutto da Tiziano Air, Viale Venezia, a Sottomarina Per Nicole un bel trucco solare Il centro estetico EOS con Oriana cura il make-up delle Miss di Chioggia TV Pensato proprio per la bella stagione, il trucco di Nicole mette in evidenza la bocca Con l'uso del color geranium Il centro estetico EOS presenta per l'estate il giusto trattamento per preparare la nostra pelle all'esposizione del sole Per mostrarci il trattamento c'è la giovanissima Gloria Si inizia con l'esfoliazione e l'eliminazione delle cellule morte con lo scrub Un bel idromassaggio rilassante e poi un bagno crema idratante allo yogurt e miele Per una pelle effetto velluto Gloria adesso è pronta per una doccia solare con spruzzi super abbronzanti L'offerta del mese EOS Center è davvero imperdibile Peeling più idromassaggio più bagno crema e in omaggio avrete la doccia solare Un bel modo per prepararsi all'estate e buon sole a tutti Partner del calendario Chioggia TV, Claudia Piscina e Fitness Anche d'estate il tuo allenamento mirato per risultati sicuri La palestra con attrezzature all'avanguardia La piscina per un allenamento completo in acqua Il VIP Center per un trattamento personalizzato Per l'estate 2012 ritornano per i piccoli di casa i centri estivi Se avete un bimbo o un ragazzo dai 3 ai 14 anni Claudia Piscina e Fitness appropone tante idee coinvolgenti e stimolanti Per un'estate piena di sorprese Non parcheggiate i vostri bambini da parenti o in asili Con i centri estivi tante stimolanti attività all'aria aperta Corsi di vela, uscite a cavallo, calcetto, tennis, nuoto sincronizzato e beach volley I centri estivi di Claudia Piscina e Fitness vi aspettano da metà giugno Pare già una festa Che bella cosa Una giornata e sole Ma un nato sole La tua mano sinistra Un bel subiso Mamma, aiuto No, no, abbiamo paura Una mucca che c'era Un scorchione Un scorchione tirato da Tantanio 1, 2, 3 Pasqua Un scorchione tirato da metà giugno Un scorchione tirato da metà giugno Una mucca che c'era Un scorchione tirato da metà giugno Un scorchione tirato da metà giugno Beh bene quasi Questa è la gente Un scorchione tirato da metà giugno いうこと